Giorno 2, come ieri anche stamattina non mi andava molto di vloggare, quindi siamo nel pomeriggio e stiamo andando al Tempio di Apollodicio non sto qui a spiegarvi perché ci sono troppe cose da dire vi faccio vedere direttamente di cosa si tratta sta di fatto che sono delle rovine di epoca greco-romana molto molto interessanti che potrete trovare qui verso l'ingresso di mezzo in tutto questo ho avuto la fortuna di avere un incontro ravvicinato con un spuglio di cagote, non so se si vede ma ho il braccio pieno di spine e lì sangue e... che bello! beh siamo quasi arrivati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Però Dry, che fai? Fai un video in un luogo turistico e non porti più utenti a vedere il lungomare di Metapotto? Dai dai, fatti qualche altro chilometro e portali Muoviti Grazie a tutti il video finisce qui purtroppo ho perso l'equipe di chiusura in quanto ho avuto problemi con la micro SD dell'action cam spero comunque che il video vi sia piaciuto se così fosse lasciate un commento e un mi piace e magari scrivete anche nei commenti se avete idee per i prossimi video spero che questa mini serie sia stata di vostro gradimento vi auguro una buona giornata o una buona serata e alla prossima